Il Bergamini Quater riparte dalla richiesta del procuratore di Castrovilleri Eugenio Facciolla affinché la salva del calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre del 1989, sia riesumata per nuovi accertamenti tecnico-scientifici da acquisirsi nel contesto di un incidente probatorio. In pratica ciò che emergerà dalle analisi sarà cristallizzato come elemento di prova già acquisito nell'eventuale futuro processo. Riparte così quindi la quarta inchiesta sul decesso di Denis, beniamino della tifosera del San Vito, la cui morte, dopo 27 anni, resta avvolta nel mistero. Tornano sul registro degli indagati, dopo l'archiviazione dell'accusa loro carico, la loro fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e Raffaele Pisano, il camionista che guidava l'autocarro sotto il quale finì il biondo mediano rosso-blu. Dai nuovi accertamenti autoptici, da realizzarsi con le più moderne tecniche di investigazione medico-scientifica, il procuratore Facciolla confida possano acquisirsi elementi utili per soffragare l'ipotesi secondo cui Denis sia stato ucciso e poi gettato sulla carreggiata esanime al passaggio del mezzo guidato da Pisano. L'ipotesi investigativa che torna in auge, anche grazie al recupero di vecchie testimonianze dell'acquisizione di nuove, è quella del delitto a sfondo passionale o d'onore. Poco prima che Denis morisse, infatti, la famiglia di Isabella Internò, con la quale il calciatore aveva poco tempo prima truncato la relazione, avrebbe appreso dell'interruzione di una gravidanza consumata in una clinica londinese nella quale la stessa Isabella fu accompagnata in segreto proprio da Denis. Da Cusenza per la Cineus 24.